Ehi, c'è un argomento che non abbiamo coperto, banalmente perché non ne avevo voglia, cioè le parole di Elisabetta Franchi, che è un'imprenditrice di successo a quanto pare, io personalmente non la conoscevo, che durante una piccola intervistina ad un evento organizzato dal Foglio e da PVC, che è un'azienda di consulenze per imprese, ha fatto tutto un discorso suo sul ruolo della donna nella vita e nel lavoro. E ad esempio ha detto che lei, le donne in posizioni importanti, le assume solo dopo i 40 anni e che spesso a queste ha preferito, in età più giovane, degli uomini, e questo per evitare il problema, a suo avviso, delle donne che poi vanno in maternità e creano dei vuoti d'organico in azienda, spingendosi poi in valutazioni personali sul ruolo della donna in sé per sé, che non soltanto è quella che materialmente dà la luce ai figli, e non è una cosa che ovviamente possa essere delegata all'uomo, ma poi, testuale, la donna è anche quella che in casa accende il camino, quindi riportando il discorso sulla questione dei ruoli di genere nettamente distinti nella coppia. Uomo lavoro, donna accende il camino. A parte che nella mia esperienza non è nemmeno vero, e l'accensione del camino è una di quelle attività che, come non mai, dalle feste di famiglia alla festicciola nella casa di campagna, tende a scatenare le competizioni maciste su chi sia in grado di fare il miglior fuoco possibile, ma capisco cosa intendesse. Io credo che noi donne abbiamo un dovere, che è quello nel nostro DNA, e non dobbiamo neanche rinegarlo, che i figli li facciamo noi, incinto ancora no, e comunque il camino in casa lo accendiamo noi, quindi è una grande responsabilità di una donna. Poi, questi uomini sono dei bambinoni, dei mammoni, e non vogliono crescere, mai. Ora, attorno a queste parole si è scatenato un casino, in relativo ai permessi per maternità, a come funzionino o non funzionino nel nostro paese, alle disparità, e vorrei aggiungere, avremmo anche dovuto parlare delle piccole partite IVA, o delle finte partite IVA, che quei permessi se li sognano, ma tanto di loro e dei precari non si parla mai. Ora, io personalmente non ho nulla da aggiungere al dibattito, è evidente che il nostro paese sia indietro, lo è per tante ragioni. Ma, una cosa che mi ha incuriosito, è come questa persona abbia detto queste cose con totale nonchalance, incurante dell'intervistatrice che, capito quanto quelle parole potessero essere incendiarie, cercava di metterci una pezza, dicendole no, nel senso, tu ti sei ritrovato in questa situazione perché la società è quella no, bam, scritto nel DNA, focolare domestico, un casino. Perché? Com'è possibile non prevedere il disastro che quelle parole genereranno? Perché internet non è il paese reale, e il paese reale è fatto di tante bolle. Il web non è nient'altro che una di queste. Oggi i giornali spostano la propria indignazione, giustamente, sul fatto che ogni anno c'è sta benedetta parata degli alpini, che sono un pezzo dell'esercito italiano, e ogni anno fanno una grande festa con militari, simpatizzanti, veterani, tutta questa roba qui. Alla parata partecipano, tenete conto, 75.000 persone, è gigantesca. E ogni anno ci sono lamentere, oltre che per cose minori, tipo schiamazze, gente molesta, per cose gravi, come molestie sessuali, abusi, eventi di questo tipo. A sto giro il collettivo, non una di meno, dice di aver raccolto, via social, più di un centinaio di testimonianze. Donne, magari cameriere, oggetto di abusi fisici, mani addosso, una ragazza che dice di essere stata fermata nel tentativo di farla entrare in un capannone, cose non belle. E con ogni probabilità, anche se non è una scusante, alimentate sia dall'alcol, che dal clima macista e cameratesco che si crea in queste situazioni. Evito di leggervi alcune testimonianze, ma potete immaginare cosa accade in quegli ambienti, le dinamiche. Ovviamente il nostro politico migliore, Salvini, ha preso queste denunce, rilanciando il titolo del Corriere che dice atteggiamenti sessisti contro centinaia di donne, e ha commentato viva gli alpini più forti di tutto e di tutti. Quindi, non solo ignorando le accuse, ma proprio esprimendo solidarietà sotto l'accusa di molestie, molestie che l'anno prossimo, ovviamente, si ripresenteranno. Di nuovo, perché? Perché l'ha fatto? Perché fa una roba del genere? Non ha paura delle repercussioni? Nì. È che, di nuovo, parliamo di bolle. È evidentissimo che c'è l'idea che alle persone a cui Salvini parla di quelle molestie non interessi granché. Mi sembra ci sia il tentativo di ammiccare a un discorso tipo, guardate un po' ste femministe, c'è pure il nome, non una di meno, che si lamentano, ma noi diciamo alpini avanti tutta e goliardia, quella roba lì. E questo perché poi, politicamente, paga a legarsi al discorso del rispetto delle forze dell'ordine. Ovviamente, sapete come la penso, non è che se un paio di alpini o di carabinieri fanno qualcosa di brutto, questo significhi che bisogna sciogliere gli alpini. Sono un pazzo, può pensare una cosa così. Però, insomma, le sensibilità sono diverse a seconda della bolla di riferimento e per non infangare la categoria diventa tutta una goliardata, che poi quello che ha detto fa vero il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, proprio parlando di allegria e goliardia. Ora, le donne che accendono il focolare, gli alpini bravi, nonostante il centinaio di accuse di molestie, come ti viene in mente di dire certe cose? Non pensi al casino che ti tirerai addosso? Un po' sì, ovviamente, alle volte lo si fa apposta, ma soprattutto è l'ennesimo indizio per ricordarci che il paese che vediamo noi, l'Italia che pensiamo di conoscere, non è che un pezzettino del paese, è una sfaccettatura, come ce ne sono mille. E in quelle 999, che non sono la nostra, di alcuni argomenti che per noi sono il centro del mondo, a nessuno frega niente. Delle nostre sensibilità non si parla mai. E magari sono importantissime altre cose che noi, solo a pensarci, stiamo già sbadigliando. E insomma, è importante provare a ricordarselo quando parliamo del nostro paese, che comunque conosciamo meglio di qualsiasi altro, ed è soprattutto importante farlo quando parliamo degli altri paesi, di quelli ovviamente, per quanto leggiamo, studiamo, ascoltiamo, cerchiamo di capire, non sappiamo niente, ci sfugge tutto. Quindi accendete il camino, o donne, fatevi una risata ogni tanto, o donne, e bentornati su Breaking Italy. Mentre ieri si tenevano in Russia le celebrazioni per il giorno della vittoria, cioè la festa nazionale che commemora la resa dei nazisti nel 45, quindi potresti anche aver visto i video della parata in tv, intendo sul web, e anche di questa celebrazione se ne era parlato molto per i timori riguardo alla possibilità che Putin la utilizzasse come trampolino di lancio per dichiarare un'escalation della guerra, cosa che poi non è successa, da noi si festeggiava invece ieri, quindi contemporaneamente, la giornata dell'Europa, che nello stesso giorno commemora invece la nascita del concetto di Unione Europea come entità economica e politica, nel 1950. Ecco, in particolare in questa occasione, per quanto non sentitissima, diciamo se non è che ci siano particolari celebrazioni degne di nota, il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, è andato in visita a Odessa, in Ucraina. Per visionare i danni alla città provocati dai bombardamenti, rinnovare il supporto europeo alla causa ucraina, e anche incontrare il primo ministro, con il profilo Twitter ufficiale dell'Ucraina, che ci ha tenuto a specificare che il primo ministro è quello a destra. Il motivo per cui ne stiamo parlando è però un altro. Mentre Michel era a Odessa, infatti, proprio durante l'incontro con Shibihal, il primo ministro, la città è stata colpita da un altro bombardamento, e i due sono stati costretti a rifugiarsi in un bunker, da dentro al quale hanno peraltro continuato il loro incontro. Ecco qui la foto. E in questa occasione il bombardamento ha colpito un centro commerciale e un deposito di prodotti agricoli, a quanto pare, per ora si registrano alcuni feriti e una vittima. Ma è anche diventato l'attacco un po' un simbolo di quello che accade in città negli ultimi giorni. Cioè, la città viene bombardata di continuo a indicazione di come il porto di Odessa, lo abbiamo detto varie volte, sia uno degli obiettivi principali per consentire alla Russia di chiudere l'accesso al Mar Nero all'Ucraina, e creare il famoso corridoio di collegamento con la Transnistria. Ora, se la visita di Michel a Odessa era significativa, anche e soprattutto per la scelta della data, al netto poi dell'attacco russo, ha fatto ancora più scalpore la scelta di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, di annunciare ieri la volontà di allontanarsi, proprio nella giornata europea, da uno dei capisaldi che hanno sempre caratterizzato l'Unione, ovvero la necessità di avere l'unanimità in seno al Consiglio dell'Unione Europea per poter prendere decisioni chiave, come ad esempio l'adesione di nuovi membri, le decisioni in ambito di difesa, politica estera, o banalmente le sanzioni. Sino ora, infatti, se si vuole fare qualsiasi cosa in Europa, è necessario che tutte le nazioni siano d'accordo, e ovviamente con l'allargamento del club questo è diventato progressivamente più complicato, perché ci sono spesso interessi che le singole nazioni vogliono difendere, anche, ovviamente, a scapito della collettività. Questa uscita della Presidente non arriva a caso, perché mercoledì la Commissione ha presentato al Parlamento Europeo il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il sesto, il cui punto chiave era l'impegno a rendersi indipendenti dal petrolio russo in un arco di tempo che andava dai sei mesi per quello non raffinato, cioè pochissimo sei mesi, alla fine dell'anno per quello raffinato, ovviamente dando priorità ad altri esportatori. Il problema è che ci si aspettava, la proposta sarebbe passata senza troppi problemi, ma nonostante in questi giorni ci siano stati numerosi incontri per discutere i dettagli, è emerso senza subito come ci siano vari contrasti all'approvazione del pacchetto, dato che Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, fortemente dipendenti dal petrolio russo, si sono dette contrarie alla misura. Ovviamente loro cercano di tutelare il proprio interesse, è chiaro, in ottica di un discorso che è anche più ampio e tocca a vari aspetti politici e negoziali, non è semplicemente il petrolio, e lo tutelano mettendosi di traverso, con il risultato però di proteggere la Russia e il suo apparato dalle sanzioni. Ora, per cercare di risolvere l'impasse, si è proposto di concedere una deroga che garantisca un periodo di transizione più lungo a queste nazioni per allontanarsi dal petrolio russo, che per l'Ungheria e la Slovacchia sarebbe dovuto essere sino alla fine del 2024, quindi ancora due anni e mezzo, e sino a giugno di questo stesso anno per la Repubblica Ceca. Ma, mentre Slovacchia e Repubblica Ceca si sono mostrate un po' più morbide, l'Ungheria non ha ritenuto la proposta abbastanza convincente, e il primo ministro Orbán ha indicato una finestra di almeno cinque anni per potersi allontanare dal petrolio russo. E la cosa che ovviamente fa sorridere è che l'Ungheria è tra questi paesi quella meno esposta di tutti, e se ad esempio i Paesi Bassi importano dalla Russia ogni giorno più di mezzo milione di barili, la Polonia 328 mila, e la sopra città da Slovacchia poco più dell'Italia, 111 mila, l'Ungheria è appena 76 mila barili, molto meno di tutti gli altri. Quindi per logica che sia proprio lei a trascinare i piedi ha meno senso, perlomeno se non consideriamo altre ragioni che potrebbero portare a prese di posizione di questo tipo. Insomma, il risultato è che ad oggi un accordo non c'è, non è stato trovato, ma l'idea è quella di allontanarsi dal concetto di unanimità per passare al voto con la cosiddetta maggioranza qualificata, che, semplificando moltissimo, viene raggiunta quando i voti rappresentano il 55% delle nazioni dell'Unione, posto però che contengano al loro interno la rappresentanza di almeno il 65% della popolazione, per fare in modo che non ci sia una coalizione di paesi minuscoli che facciano in modo che una minoranza di persone decida per la maggioranza. Ora, questa non è una proposta del tutto nuova in realtà, Von der Leyen si batte per la sua adozione, in casi come le sanzioni e diritti umani, già da parecchio, proprio perché negli ultimi periodi, se guardate Breaking Italy con assiduità, lo saprete, sono emersi vari momenti di situazione di potenziale ricatto, per cui se io a Nazione X non ottengo quello che voglio, blocco tutte le decisioni possibili. Eh, questa possibilità incentiva comportamenti di tal natura, ad esempio, a seguito delle concessioni proposte a Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, quelle sul petrolio, pare che ora anche la Bulgaria voglia simili accordi, minacciando appunto il suo veto nel caso non li ottenesse. Peraltro questa non è l'unica proposta pazzerella, per così dire, che è stata avanzata ieri, perché il presidente francese Macron, nel suo discorso a Strasburgo, notate come ho detto Macron perché sono colto, ha evidenziato quello che a conti fatti sanno un po' tutti, ma che nella foga delle dichiarazioni spesso ci dimentichiamo, cioè che per quanto sia bella l'idea dell'Ucraina che entra in Unione Europea, esistono delle difficoltà oggettive che nazioni come lei, ma non solo, Macron cita la Moldavia e la Georgia, avrebbero appunto nell'entrare sul serio nell'Unione, senza contare l'allungaggine del processo, come giusto, perché bisogna valutare se tutta una serie di parametri vengono rispettati. Macron ha quindi proposto come soluzione la creazione di una sorta di entità parallela all'Unione Europea, una comunità politica in grado di includere sia i membri attuali dell'Unione che quelli che al momento non ne fanno parte o ne sono usciti come il Regno Unito, garantendo quindi cooperazione politica, energetica, di sicurezza e magari facendo anche da scivolo per i paesi che decidano poi di entrare in una sorta di sfera di influenza allargata, che è però d'altra parte un po' un problema. Le fondamenta del progetto europeo sono infatti nelle responsabilità reciproche tra le nazioni e nella gestione comunitaria dell'economia, integrazione che è appunto una delle ragioni per le quali è complesso entrare nell'Unione, perché se ad esempio non hai un'economia libera ma protetta dallo Stato, non puoi competere con paesi che invece hanno un sistema diverso, ma al tempo stesso godendo dei benefit di stare nel club, ragion per cui la proposta di Macron, pur manchevole dei dettagli su come il tutto dovrebbe essere organizzato, è già stata molto criticata, senza contare che alcuni, minoritari a dire il vero, minoritari, ma l'ho letto in giro, tendono a vedere un impronte imperialista in una sciolta di questo tipo, perché quando si parla di aree di influenza, soprattutto se l'idea parte dalla Francia, capisco che ad alcuni prodano le mani, lo capisco, per carità. Rimaniamo sul tema ucraina, ma spostiamoci in Cina perché c'è una cosa molto interessante di cui vi voglio parlare. Allora, poco dopo lo scoppio della guerra, su Twitter è nato questo profilo qui, si chiama The Great Translation Movement, dove in sostanza volontari anonimi denunciano casi di palese propaganda filorussa da parte di Pechino, e lo fanno in modo particolare, cioè ripubblicando dei testi esteri, giornali esteri, volontariamente mal tradotti o manipolati dai media filogovernativi cinesi, in modo che nei post si imputi all'Ucraina la paternità di azioni militari che in realtà sono state portate avanti dalla Russia. Mi spiego, il punto è questo, se una lingua non la conosci, tendi o affidarti dei sottotitoli o delle relative traduzioni, sino a che però non salta fuori che queste traduzioni contengono degli errori, se li vogliamo chiamare errori, perché li possiamo anche chiamare palesi manipolazioni. Questo è ad esempio un articolo del Guardian del 24 aprile e tratta dell'uccisione dei civili a Buccia, cioè la cittadina vicina a Kiev da cui i soldati russi si sono ritirati a fine marzo lasciando cadaveri per strada e fosse comuni. E l'articolo, nello specifico, parla di alcuni dardi di metallo dell'artiglieria russa che avrebbero causato la morte di decine di civili, questi qui. Ora, come riportato dall'account in questione, pare che l'articolo sia stato ripreso integralmente dal South Reviews, cioè un bisettimanale che tratta politica ed economia, vicino al governo cinese, dove peraltro nel 2011 il presidente e l'editore erano stati sospesi per aver citato uno storico taiwanese, per capire il livello di indipendenza della testata. Ok, in sostanza si è parlato delle immagini del massacro di Buccia, con una piccolissima differenza di traduzione, dato che nel testo la parola russia è diventata ucraina con tutti i cambiamenti del caso. Se ad esempio io dico Alessandro ha sparato a Paolo e voi traducete Alessandro ha sparato ad Alessandro, non so se capite la sottigliezza, c'è una... non so se è chiaro, se non siete degli intellettuali come me non potete capire queste... Peraltro un account con quasi 5 milioni di follower e molto focalizzato su questioni militari ha pubblicato un altro post su Weibo, cioè il Twitter cinese, precisando che nonostante il Guardian sia stata solitamente lontana da posizioni lusse, proprio questa volta pareva aver fatto un'eccezione, quasi a voler giustificare la stranezza del fatto che il Guardian dicesse una cosa del genere, cosa che ovviamente non ha mai fatto. E questo è ovviamente solo un esempio, ci sono infatti diversi altri casi che riportano una dinamica simile. Un altro esempio potete vederlo qui, di nuovo account molto seguito su Weibo che pubblica contenuti a tema militare. Si parla di 34 milioni di follower, non bruscolini. Che però anche qui, nel parlare dei missili sulla stazione di Kramatorsk, quelli che sono stati lanciati l'8 aprile nell'Ucraina orientale e che hanno ucciso quasi 60 persone, vengono descritti non come missili russi, come è invece emerso, ma ucraini, lasciando quindi intendere che l'Ucraina si sia bombardata da sola a una stazione ferroviaria. Peraltro noi abbiamo citato solo casi di articoli provenienti dalla stampa anglofona, ma pare che The Great Translation Movement operi anche in giapponese, tedesco, coreano, spagnolo, francese e arabo. Quindi, domanda, come funziona? A quanto pare questo profilo Twitter, che al momento riporta poco più di 150.000 follower, è gestito da alcuni moderatori anonimi, la cui identità non è appunto nota, tenendo eventuali multe o persino il carcere, è chiaro. E questi raccolgono segnalazioni da tantissimi volontari, anche se anonimi, il cui scopo sarebbe quello di smascherare in qualche modo l'ipocrisia del governo cinese, che mentre professa neutralità e chiama per la pace a livello internazionale, internamente, lo avevamo detto, riflette e promuove la visione russa del conflitto, infastidendo. Ovviamente, sto nuovamente parlando del profilo Twitter, le autorità di Pechino. In un articolo del Global Times, infatti, un quotidiano del Partito Comunista cinese che si incentra sulle vicende internazionali, forse è il più noto di tutti, l'account è stato accusato di quello che si definisce normalmente cherry picking, ossia scegliere soltanto quelle fonti che portano acqua al tuo mulino, ignorando il quadro generale. In questo caso, sostanzialmente, la testata cinese afferma che i moderatori in questione siano in malafede e cerchino di dargli un'immagine falsata del governo, prendendo in analisi degli esempi di cattiva traduzione, che però non rispecchiano in alcun modo la linea di Pechino. Contanto, peraltro, questo è fantastico, sempre nell'articolo in questione, di alcuni esempi di casi in cui la traduzione occidentale, invece, non rifletteva il termine utilizzato correttamente in cinese. Ad esempio, siete pronti? La denominazione usata una volta dalla BBC di politica Social Zero Covid, mentre in realtà si tratterebbe di Dynamic Zero Covid. Insomma, differenze sostanziali, più o meno allo stesso livello del cambiare il soggetto di una frase. Che sarà mai? Alessandro spara Paolo, Paolo spara Paolo. Uguale. A proposito di Covid, peraltro, è forse il caso di ricordare che Shanghai è la sua sesta settimana di lockdown, con le tensioni tra i residenti dell'area metropolitana e le autorità, che non sembrano placarsi. Anzi, anche perché i metodi ai quali le autorità ricorrono per ridurre il rischio contagio sembrano peggiorare. In particolare, sono circolati alcuni video che essenzialmente mostrano questi uomini con delle tute bianche alla Breaking Bad, che ormai abbiamo imparato a conoscere, perché è più di un mese che va avanti questa storia qui, fare irruzioni in normalissime casie di civili, mentre continua a moltiplicarsi le immagini che ritaggono invece la gente, urlare da intere palazzine, o che cerca di scappare con degli escamotaggi, proprio per uscire dalle strutture entro le quali queste persone vengono confinate. Che bello, ma soprattutto, anche se siamo in Cina, ci si inizia a chiedere come questa cosa possa essere legale. Ecco. Alletto del fatto che questo approccio estremo contro il Covid il governo cinese l'ha sempre avuto, non è che si parli di qualcosa di nuovissimo, recentemente alcuni studiosi paiono aver espresso una certa preoccupazione sulla scarsa attenzione del governo nei confronti delle leggi, in merito a questo specifico approccio così brutale. Ad esempio, domenica è stata pubblicata da un professore di diritto e scienze politiche di Shanghai una lunga lettera che chiedeva a Pechino di attenersi alla costituzione cinese, lettera tanto condivisa sui social quanto repressa dalla censura governativa. I video comunque ve li lascio tutti in descrizione, sono ovviamente piuttosto sgradevoli, ma descrivono molto bene l'impotenza che i cittadini si ritrovano ad avere in quelle circostanze. Magari ce li guardiamo e poi un giorno ci facciamo una bella discussione che avverta attorno all'efficacia dei loro vaccini e dei nostri vaccini, all'efficacia delle campagne vaccinali, le nostre e le loro, alle critiche mossa all'Unione Europea. Vi ricordate questo fatto che eravamo troppo lenti, troppo inefficaci, troppo molli, troppo poco decisionisti, troppo tutto e non abbastanza come la Cina, che invece con il decisionismo e il pugno duro aveva risolto il problema in un attimo. Dico magari, eh, perché guarda caso quelle critiche non le ho più sentite, che è tutto dire, no? Perché è molto facile fare i saputelli e criticare un sacco, ma anche dimenticarsi delle questioni quando fuori fa bel tempo e ce ne andiamo tutti quanti in giro sotto al sole senza mascherina e senza gente con le tute anti-irradiazioni che ci insegue per chiuderci dentro una gabbia. Dico, eh? E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, se il video vi è piaciuto al solito vi invito a iscrivervi al canale YouTube che ci aiuta moltissimo, schiacciate la campanellina, trovate il canale Telegram dedicato alle notifiche in descrizione, abbiamo una pagina Instagram, cercate anche me, ma cercate anche Breaking Italy. Insomma, andate su Google, scrivete Breaking Italy e seguite tutto il seguibile, iscrivetevi al club, TikTok non ce l'abbia, TikTok ancora non ce l'abbia, ma mai dire mai, oddio.